Maria Bazzano, unica candidata al Parlamento, innanzitutto come è maturata questa scelta? Questa scelta è maturata all'esito di una telefonata che abbiamo ricevuto dai massimi vertici nazionali sia di azione, quindi calenda, che Italia Viva. Abbiamo valutato quindi di potermi candidare alla Camera dei Diputati sia nel plurinominale, quindi proporzionale, che nell'uninominale. Il motivo della scelta, della mia scelta personale, è quello proprio di creare un ponte diretto con la politica nazionale, poiché i problemi della penisola sorrentina li conosce e li vive chi abita nella penisola sorrentina e quindi dobbiamo provare a risolverli in un'altra. Quindi questo anche nel tracciato del comune unico, cioè questo è anche un obiettivo, anche di mita, diciamo. Allora, l'obiettivo è cercare ovviamente di dare risalto all'intera penisola sorrentina. Per quanto riguarda l'unione dei comuni è un documento che hanno già predisposto tutti i sindaci della penisola sorrentina e che sicuramente è un progetto che a breve si realizzerà. Va bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie.